L'Europa purtroppo sta tentando nuovamente di giocare con quello che aveva creato la guerra fredda e questo è un passo indietro, c'è una grande ferita nel cuore dell'Europa e noi pensiamo che questa ferita non si può chiudere né cercando di fare la voce grossa ma solo con la diplomazia e il dialogo, ci vuole prima di tutto di non accettare l'aumento, il rafforzamento dei neonazisti in un governo europeo e di non riconoscere un governo in Ucraina che i neonazisti ha il potere, perché questa è una vergogna per l'Europa, il popolo ucraino è l'unico che può decidere per il suo futuro attraverso ciò che dice la Costituzione e dobbiamo chiedere il dialogo all'interno dell'Ocse, che non ci siano interventi militari né dalla Nato né dalla Russia per poter dare un'occasione alla pace. Bene.